GRIZZERA 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 Che spavento GRI Che spavento GRIZZERA Io piango se succede una cosa del genere Io ho visto tutto in caricamento e ho detto no ti prego Ah ma manca solo uno che gli resebrizzerà eh Ma fa uno Ma chi è? Andrea Ghiè posso di botte GRIZZERA Oh pronti o no? Si vai vai registra Se sei registrata Oh dai adesso si registra eh Guardate Freestyle che figo Eh Dani però stai calmo eh Stai zitto Stai zitto Guardalo io però Eh sei troppo sexy Dani Si però Greenham fa l'area troppo del veterano Il veterano di guerra Sono col di Volkidette uguale I nostri Eh GRIZZERA Ci stai provando con Dani GRIZZERA Eh si è bellissimo E' bellissimo E poi io tu a roppare il cazzo Eccolo Arrivo io a rompere Si era anche te free però eh Barca Capitano Dio brutto Io arrivo Arrivo con lo Scorpion Che in realtà non ce l'ho neanche lo Scorpion Corpida Qui hai tutto cattuto con il Capitano Scogli armamenta Scogli armamenta Scogli armamenta Metti questo va Coop Comunque bisogna trovare il Capitano Facciamo come Allora facciamo Vabbè ascoliamo Io Freestyle qui da sinistra Io Freestyle da sinistra E te e Greengram E te e greengram passate E te e greengram passate E te e greengram passate Dall'acqua Guarda Tani 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 Che cazzo Si occhio a sto qua Acqua, acqua, via Senti qua tra noi Siamo qua Copritemi Ma io ho preso una coglia in bocca stai a fuoco Dani attenzione! ah si stai già in acqua voi! oh cosa è successo? ti ho messo la siringa la siringa nel piede ho fatto! oh la granata via! oh oh oh! no sono perso in acqua! ma c'è un cecchino comunque eh! dov'è? perché da me mi sta a sparare cazzo! io mi devo curare perché qua la situazione è del maggio! ho fatto l'urlo! oh fate gli urli! dalla sky sparo due colpi e esplode tutto! guarda qui Dani sta correndo in mezzo alla piscina! alla testa c'è il giro di tegrin! ho fatto giochino per una merda! capito? ma non muovilo eh! ah devi essere capace di dart! ma coglione! boom! ma basta fare assist! scusate ma scriverò un nemico? è passato uno a distanza di un giro! ma che cacchio fai free? perché ti vedo con la granata in mano? che cazzo è sto ticchettio? eh infatti ma è il testa di cazzo con la granata a mano! lei ha un po' la granata? cretino! pare che esplode eh! ma esplode! si cazzo è un'ora che c'era in mano! stai te con la granata cretino! ma si infatti! ma si infatti! non c'è vero! guarda pristante! c'è per una statua di marmo! lo sapevo che facevi il cretino! oh ci sono i ribelli incazzati! non facciamoci scoprire raga! tranquilla! ma esplode tutto! ormai ci hanno sentito perfino in kuwait! oh aspetta ci sono tutti gli sniper! ricarico! mi metto qua per la collina! guarda un po' se può scavare! non se può scavare! non se può scavare! andiamo allora! freddi! sulle destra le prezzi! arrivo da! quanti ce ne sono? sulle destra le prezzi! voi siete capati? alla testa vado! sto sparando all'americana io! dai andiamo a sinistra dai! vaga io vado su a destra! prendo io prendo io prendo io prendo io! sta a colla il cecchino! sta tutta a destra! credo! io passo da destra insieme a fria! si ho anche quello lì che sta bersagliando Danny Green! ecco è morto! vai io ti copro a destra! prendo! occhio Green ce n'è uno dietro! l'hai ucciso? ok andiamo avanti! oh chi è sto qua? oh! è comparso un Umpa Loompa incazzato! sveglate le munizioni! le munizioni! copritemi! ricarico! occhio ci sono quelli che avanzano a Banzai proprio! basta fare gli assist! stasmi erosico! credo! ma perchè avanzano a Banzai curiosi? ci sono degli impiccati Green! no! no! e grazie al cazzo Free! credo! sto aspettando! ma quanti sono? prezo! aspetta aspetta! non andare avanti che li sto lanciando una granata! via! ti devi? cosa? prezo! prezo! sto ricaricando! prezo! 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 oh che sta passando uno da destra! basta! prezo! minchia! doppia col barile! ti colpi la testa! ma è epico sparare i barili! muoiono sempre! occhio ce ne avete uno qui eh! sono tutti qui dietro di voi solo! vai li ho presi! aspetta fermi! ma ci penso io! ma perchè devo sempre ricaricare con questo rpg? non ne mai carico! BOOM! e che mi spinge? c'è sempre l'ultra schermata rossa! allucinante! ehi! quasi a secco! prezo! patti veri! io vado proprio con rpg! sto ricaricando! aspetta fermi! prezo! maledetto! pensate a tirare la granata! prezo! BOOM! aiuto! non c'ho mai vita io! com'è possibile? aspetta gri arrivo! si occhio ce ne fanno due! morti! tranquilla c'è... c'è danny pieno! morti morti! spossami! oh andiamo a prendere... andiamo a prendere... le munizioni agli esplosivi e tutto! prima di aprire la porta! no il cazzo è che sparaga basta! dai gri ti devi sparare! oh state calmi eh! no gri ti devi sparare in continuazione te lo giuro! oh dai venite ad aprire la porta! aspetta controllo il pc ma non si sa mai! ce la sta facendo adesso forse! ehm! eeeh... è l'amico di Dani questo! oh l'amico di Dani! sembra di brutta fai! brutta fai! stavo pescando! tutti i pescatori eh? voi veneti! è salunga questo rispetto per i vecchiati come questo chiama la barca prendiamo le cianfrusaglie guarda qui sta i tamari non sapevo come i tamari facevano questi lavori ok fatto allora facciamo una tattica adesso arrivano qua delle colline io sto nel centro free copri un po' a destra danni a destra e grim a sinistra io sto nel centro ottimo oh sono tutti a sinistra occhio eh chi è che doveva andare a sinistra free sono tutti a sinistra la gris è sulla guarda partita esatto io lo sento con l'acqua stai la porta occhio sto ricaricando vai io li vedo proprio io li vedo correre come dei banzai sono tutti a sinistra gris gris guarda un solo gris uno ti ha caricato oh ho fatto un colateral cos'è che hai fatto? ho fatto un colateral c'è di due concorsi solo due eh io sto aiutando gris a sinistra perché ragà barca barcone l'entrata al barcone ci penso io c'è dell'rpg ci penso io mi ricordi questo ha preso ha preso ma perché non esplodono i barconi con l'rpg ok ho preso anche il guidatore io lo voglio far esplodere sto barcone aspetta dai possibilmente non metterti davanti dunque la barca è leggermente danneggiata vado io vado io ok free è sempre lì pronto oh tu stanno i cani oh è un di me carico sinistra non sempre a sinistra eh ma sto troppo la mia bambina esatto perché io ne vivi me ne li vedo a pari davanti ti aiuto gris cazzo gris dimmelo non c'è un male vissi non hai scampo sono tutti a sinistra non c'è tre granate oh c'è uno qui minchia così è la cazzo ma io vado a riprendere le munizioni il vostro capitano è oltre quell'alza se vi serve un passaggio sapete chi chiamare ok rieccoloci è troppo bello lo facciamo a dire eh veramente strafaigata Dani con calma adesso calma non facciamoci non facciamoci vedere aspetta no ma non sono sempre negli stessi punti ok andiamo cioè secondo voi ci hanno già scoperti o no? no secondo me no avanziamo con calma andiamo easy oh che cos'è qua? c'è un cadavere che cade giù oh eh no ma ci hanno già visti fondo ho marcato sono i cecchini dall'altra parte del fiume vai da testa vai mi son messo qua dobbiamo supprimergli un po' da qua perché ho marcato poi c'è un jippone là in fondo a posto preso un cecchino aspetta io risparo i razzi dall'altra parte del fiume preso epico lanceraggio ok il cecchino è mio prendili tutti prendili tutti io vado più vicino corpo a corpo se guadagni e grit free beccati da lontano preso dobbiamo guadare il fiume preso sta ricaricando cosa bisogna fare qua? per interagire oh sono caduti in acqua aiuto no no doccato doccato ah sopra nuotiamogli dentro nuotiamogli dietro non ci veccano guarda Dani che fossa grande esatto ehi sto andando a nuoto ehi sto andando a nuoto eh in effetti doveva morire sto notando in stile libero ah tu free beccati da lontano noi avanziamo di qua occhio Dani c'è un tizio col fuggito aiuto eh io sto per morire aiuto 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 mamma mia grande chi è che l'ha ucciso grande io ci avevo davanti un tipo col fucile a pompa cacchio mi devo curare gri arrivo subito mi devo curare prima io si si tranquillo l'altro 7 alzati e basta vai credo eh che due coglioni si dice chi di merda madonna tutte le granate a sinistra aspetta vado io green ah vai te allora vai te ci copro vai vai occhio ne è uno dietro green ne è uno dietro col fucile a pompa e ti stava inseguendo occhio destra destra raga ci sei free si si ok allora questi qua ieri raga a me mi compagno i miei compagni esatto che lagga lagga ecco raga una sinistra la mia sinistra cacchio ok ci sono preso preso di trinità e gria tutto a sinistra ce n'è uno preso qua ci sono gli esplosivi ecco preso qualcuno ha visto le munizioni la cassa di munizioni raga anche questo la tua amina gli adri cassa di munizioni un altro cassa di munizioni qualcuno l'ha vista no ma sarà qua in giro aspetta là in fondo venite qua ricaricate anche servirebbero quelle esplosive invece per le granate è la dentro quella casa qua si trovo un veicolo e seguo il capitano c'è il veicolo c'è scritto trovo un veicolo dove è il veicolo ok grazie non lo so c'è scritto trovo un veicolo e seguo il capitano andiamo avanti a vedere il veicolo sarà significa lì dove sta il ah eccoli attenzione ma c'erano i quad o sbaglio? e cazzo è l'unica cosa che c'è tra noi e il capitano prendi una bomba e piazzarla sempre che non lo faccio dobbiamo prendere le bombe e piazzarle ma cos'è chi le prende prima? tipo una gara ah ok a stiglie e poi ma se i botte tu vai vai li prenderò a stiglie 3 2 1 competizione vediamo ma che cacchi mi scontrate? oh no cosa sta succedendo? ah che cazzo non venite addosso agli altri vai ne ho preso uno voi dovete prendere gli altri quanti ce ne sono in totale? 9 finchia guarda freestyle che palle me li state rubando bastardi no non è possibile bastardi ma si portano dove cazzo capita? ah c'è l'obiettivo eh si l'ho piazzato un'altra oddio ho preso una palma in pieno guarda ma basta ha preso una bomba ma che cazzo ho preso una bomba di merda guarda cerchi di strugiti come è che è? ma scompaiono le bombe eh perché lo prendete voi ecco perché oh se me la rubate questa mi incaso oh lo prendo guarda quanto è che c'è guidare i quad? ah schifo basta ah avete fatto questa bomba quanto ce ne mancano? non mancano due sono da prendere quella da lontana eh beh ovviamente me l'hai già preso un'altra ovvio basta come hai perso la bomba? perché se mi schianto contro quello che c'è la bomba perché sono schiantato contro di te praticamente si mi è venita a do aiuto aiuto si dice no vai che bastardi ah non lo sapevo che se andava dosso uno che c'aveva la bomba e la rubavo eh dai pro gamer io vedevo che c'aveva epica minchia vediamo frostbite 2 questo addirittura mamma mia guarda puccio epico cazzo e tu compara di palle vaffacchule certo grazie a tutti